Esprimere il proprio talento e le proprie emozioni attraverso la musica e promuovere la condivisione delle competenze tra giovani. E' questo l'obiettivo di WeMusicFest, evento musicale conclusivo del progetto Erasmus più WeMusic che si svolgerà mercoledì 25 ottobre dalle 17 nella chiesa dell'Annunziata di Pesaro. Si tratta di un progetto internazionale coordinato dal Labirinto Cooperativa Sociale, nato per rafforzare la cooperazione tra organizzazioni internazionali che lavorano con i giovani. Un progetto che ha cercato di riportare i ragazzi fuori in luoghi di aggregazione attraverso questo linguaggio universale che è quello della musica, che permette a molti giovani di liberare i propri talenti sia nell'espressione musicale propriamente intesa che nelle professioni legate al mondo della musica. Si fa a livello comunitario e anche nordafricano, diciamo, anche per far dialogare tra loro ragazzi di diverse nazionalità e a proposito di temi sociali molto significativi. Tra questi la lotta alle discriminazioni, ai discorsi di odio e alle disuguaglianze. Da marzo 2022 WeMusic ha coinvolto 120 ragazzi under 35 d'Italia, Belgio, Tunisia, Turchia, Bosnia e Palestina con la passione per la musica. Delegazione di giovani che domani si esibiranno alla chiesa dell'Annunziata. Parliamo di un progetto transnazionale dove si trovano Tunisia, Palestina, Bosnia e Herzegovina, Italia, Belgio e manca una, la Turchia, però purtroppo nei ultimi giorni con le situazioni che stiamo leggendo e vedendo con la guerra in Palestina i nostri amici non sono riusciti a venire e penso che questo sta cambiando totalmente anche discorsi e l'energia che si trova nel gruppo perché mancano cinque persone, mancano cinque amici che sono stati coinvolti nei scambi giovanili in Turchia a Bodrum, in Tunisia a Hamamet e penso che questo io come costruttrice della pace voglio solo una cosa che la prossima volta tutti i ragazzi avranno la possibilità di stare insieme e vivere in pace. Come la persona che ha sopravvisuto la guerra lo so molto bene cosa è la guerra e spero che questo tipo di progetto non solo oggi nei ultimi giorni e nei prossimi anni, prossimi giorni scusatemi, porta la pace e dialogo tra gli tutti e penso che quello momento per noi è molto importante. La musica è un ottimo mezzo di comunicazione, di superamento di confini e come veniva ricordato questa mattina anche di superamento di stereotipi e di possibili discriminazioni. Un ottimo modo per guardare il 2024 ma un ottimo modo anche per augurarci un mondo più inclusivo in cui regni la pace specialmente nella nostra Europa.